In sei anni, oltre all'attività ospedaliera, il professor Covelli, primario del reparto di neurologia al Policlinico di Bari, avrebbe guadagnato qualcosa come 3 milioni di euro. Ma sulla dichiarazione dei redditi, il professionista ne avrebbe dichiarati appena 630 mila. Il provvedimento di sequestro emesso su richiesta della Procura della Repubblica è stato disposto dopo che è stato accertato che il medico, dal 2007 al 2012, con una serie di artifici nelle scritture contabili, avrebbe sottratto a tassazione ricavi derivanti dalla sua attività professionale svolta in forma privata, pari a 2 milioni e mezzo di euro. Gli investigatori hanno inoltre verificato il tenore di vita del professionista e ricostruito i suoi flussi finanziari transitati anche su conti correnti intestati a componenti della propria famiglia, al fine di dissimularne la reale riconducibilità. Per salvaguardare le legittime pretese del fisco e per evitare rischi di dispersione del patrimonio, la Procura di Bari ha richiesto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di denaro, titoli e polizze assicurative nella disponibilità del professionista, anche se formalmente intestati a familiari per un importo corrispondente alla montare dell'imposta evasa. Il patrimonio sequestrato verrà affidato ad amministratori giudiziari. La Procura di Bari indagava da tempo sul medico nell'ambito di un più ampio procedimento legato ai presunti falsi certificati medici fatti ad un pregiudicato barese per uscire dal carcere. Tra un certificato e l'altro la scoperta da parte dei finanzieri della maxievasione fiscale.